Aprire le porte di un museo, che in genere comporta un atteggiamento un po' accademico, un po' sacral museo, come al teatro, no! E quindi è parte della nostra storia e del nostro comune sentire e quindi più ci apriamo e più incontriamo la meraviglia e lo stupore di quanti hanno problemi ben diversi da una gratificazione culturale.